E siamo sempre più vicini, anzi vicinissimi alla Civil Week 2024 e con chi potremmo parlare meglio di questa edizione se non con il presidente del CSV Milano, Andrea Fanzago Grazie di essere qui con noi Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori Uno degli eventi caratterizzanti di tutte le edizioni della Civil Week è la Bici Civica che anche quest'anno ci sarà un evento davvero importante proprio perché mette in campo e realizza quelli che sono i valori e le pratiche in realtà una parte dei valori e delle pratiche che la nostra Costituzione ci dice e ci racconta infatti l'edizione 2024 della Civil Week si intitola proprio La Costituzione Siamo Noi Quindi Andrea ti chiedo di raccontarci che cos'è la Bici Civica ma soprattutto il valore che vuole condividere Sì, diciamo che la Bici Civica è l'iniziativa che conclude un po' la Civil Week che coinvolge tante persone con l'intento proprio di sottolineare questo aspetto su un tema particolarmente di attualità qual è quello della crisi ambientale e anche delle azioni di contrasto alle variazioni del clima eccetera eccetera quindi invitiamo i cittadini a partecipare con una biciclettata a concludere questa tre giorni di impegno sociale che stiamo promuovendo attraverso la Civil Week dove quest'anno appunto come dicevi tu abbiamo preso come spunto la Costituzione e anche nella Costituzione ci sono questi riferimenti alla tutela dell'ambiente, alla tutela del paesaggio ovviamente poi alla partecipazione quindi diciamo che l'idea quest'anno è ancora più calzante e abbiamo visto nelle altre due edizioni un crescere di partecipazione rispetto a questa iniziativa perché sta entrando un po' nel calendario delle iniziative della Milano Sociale E tu tra l'altro pedali tutti gli anni con i tuoi colleghi Io pedalo e tra l'altro l'anno scorso mio nipote Michele mi ha detto bravo nonno hanno avuto una bella idea di far venire tutti in bici Bellissimo, bellissimo, sono una grande soddisfazione Senti parlavi di valori e di pratiche dell'agire costituzionale inerenti alla bici civica ma noi sappiamo anche che il CSV di Milano lavora in questa ottica Quali sono secondo te appunto questi valori e queste pratiche? Certo, quando è stato scelto questo tema io ero un po' perplesso perché dicevo che la Costituzione è un tema importante, un tema impegnativo e immaginavo la fatica da parte di tutto il nostro mondo e quindi le realtà del terzo settore, le associazioni, le imprese sociali, le cooperative a dover tradurre questo slogan La Costituzione siamo noi in un'azione perché noi siamo il vivere della Civil Week non siamo il capire che invece inizia diciamo organizzato dal Corriere della Sera a buone notizie e quindi mi immaginavo questa difficoltà poi in realtà rileggendo la Costituzione si trovano un sacco di elementi, di spunti e infatti le organizzazioni quando le abbiamo contattate le abbiamo coinvolti in questo percorso di organizzazione della Civil Week si sono dimostrate tutte molto entusiaste perché? Perché nella Costituzione ci sono i diritti ci sono i diritti, c'è la partecipazione come elemento fondante e quindi queste due cose fanno sì che ogni singola realtà che ha proposto un'iniziativa abbia potuto dalla Costituzione trarre quello spunto per poter realizzare un'iniziativa quindi il calendario è ancora molto ricco di eventi, di impegni e questo testimonia il fatto che questo tema della Costituzione poi appunto quest'anno particolarmente sentito e infatti verrà anche il Presidente Mattarella l'inaugurazione della Civil Week questo tema è un tema importante proprio oggi qui in Italia Ti chiedo un'ultima cosa dal tuo osservatorio privilegiato alla CSV di Milano in questi anni come hai visto trasformarsi, evolversi se c'è stata una trasformazione, un'evoluzione del terzo settore soprattutto nei termini di cittadinanza attiva che sono quelli che esplicitano i valori e le pratiche che hai appena detto Certo, diciamo che c'è stato il 2020 che è stato l'anno che ha cambiato proprio tutto il mondo e ha cambiato anche la modalità di relazionarsi è stato un anno che ha strappato le reti sociali perché eravamo isolati, non potevamo incontrarci non potevamo vivere insieme degli eventi, delle iniziative quindi la fatica di questo 2021, della ripresa il 2022, poi la crisi economica gli effetti economici della crisi dovuti alla guerra gli effetti economici della pandemia insomma una serie di anni molto intensi che hanno cambiato un po' il mondo e hanno cambiato anche il modo di rispondere ai bisogni perché c'è stato anche questo sforzo da parte del terzo settore perché sono nati nuovi bisogni si sono manifestate nuove esigenze e anche un modo diverso di rispondere a questi bisogni quindi diciamo lo sforzo del terzo settore è andato proprio in questa direzione nella capacità di saper adattarsi a un cambiamento epocale perché il covid e in generale appunto questi anni molto intensi stanno producendo un cambiamento epocale però con la flessibilità e la capacità del terzo settore di saper leggere i bisogni e anche di prevenirli diciamo che il nostro mondo ha saputo reagire e adattarsi a queste nuove situazioni perché la presenza dei volontari negli ospedali quindi nella sanità sappiamo che cosa è stato il 2020 è una presenza fondamentale perché loro io glielo ho detto somministrano una medicina che nessun medico e nessun infermiere ha è una medicina che ha il bugiardino bianco perché non esiste posologia non esistono controindicazioni che è la vicinanza, il sorriso e l'ascolto sono tre cose che negli ospedali sono fondamentali soprattutto dopo aver vissuto il 2020 dove purtroppo abbiamo assistito a tante persone che sono morte da sole negli ospedali perché non si poteva entrare gli infermieri e i medici erano molto impegnati ricordate le foto degli infermieri sdraiati sui tauli stanchissimi, poveretti anche loro hanno vissuto un periodo così ecco, quindi arrivato da quel momento lì questo mondo, il mondo del volontariato ospedaliero sta riprendendo e ho visto anche tanto entusiasmo tra di loro quindi anche questa è una testimonianza di come le associazioni di volontariato sappiano leggere in anticipo anticipare i bisogni e anche adattarsi alle nuove realtà grazie mille grazie al Presidente grazie a voi per l'ospitalità e insieme alla Sibibic assolutamente, vi aspettiamo assolutamente, tutti insieme noi saremo sicuramente insieme aspettiamo tutti voi che ci state guardando e ascoltando e che soprattutto condividerete questi contenuti buona Civil Week abbiamo detto le date? sì, abbiamo detto le date no, le diciamo sempre ma questa volta no 9 e 12 maggio esatto, è la BCCV il 12 maggio sempre in chiusura è la festa conclusiva alla Road to Civil Week siamo in movimento in grande attesa per l'edizione 2024 della Civil Week che si concluderà come ogni anno con il grande evento della BCCV e per parlare di questa grande opportunità per tutta la cittadinanza abbiamo con noi oggi Angelo Lisco che fa parte di un circolo di Lega Ambiente che si chiama Lega in Bici quindi chi meglio di lui come ospite per parlare di BCCV grazie Angelo di essere qui con noi grazie a voi e un saluto a tutti quelli che si sono collegati e che ci seguono allora raccontaci un po' che cosa fai quindi che cosa fa Lega in Bici e perché desiderate partecipare anche quest'anno alla BCCV perché tutti gli anni voi siete stati protagonisti di questo evento sì, allora io faccio parte di Lega in Bici per chi non lo sapesse è un circolo tematico di Lega Ambiente è un circolo tematico perché come forse qualcuno di voi già sa Lega Ambiente è un'associazione che si sviluppa a livello territoriale con dei circoli appunto territoriali invece Lega in Bici è un circolo tematico cioè è su livello nazionale quindi non è diciamo radicato in un preciso territorio anche se al momento diciamo siamo più attivi su Milano che si occupa della mobilità attiva della ciclabilità questo è il terzo anno che veniamo coinvolti nell'organizzazione di questa importante diciamo festa conclusiva della Civil Week che si chiama Bici Civica e siamo stati ingaggiati appunto da da CSV per diciamo progettare insieme pensare insieme come rendere questo momento conclusivo della Civil Week un momento pestoso diciamo e quindi è nata l'idea di realizzare questa pedalata questa biciclettata alla portata diciamo di tutti per tutte le abilità come abbiamo anche scritto sul sito se volete vi racconto un po' in dettaglio insomma quest'anno sì facci un po' vivere un'anteprima sì assolutamente allora il tema della Civil Week di quest'anno quindi Civil Week 2024 è la Costituzione italiana partendo da da questo in fase diciamo di brainstorming sulla sulla pedalata abbiamo pensato di legarla un articolo in particolare della Costituzione italiana che l'articolo 33 che dice la Repubblica italiana riconosce il valore educativo sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme quindi come capite bene in questo articolo già risiede chiaramente l'intento di organizzare una biciclettata quindi una pedalata ma ancora di più abbiamo voluto legare il tema dello sport diciamo allo sviluppo del percorso cioè cosa ci siamo immaginati di andare un po' a toccare ad abbracciare quei luoghi simbolo della città di Milano che fossero comunque legati allo sport faccio degli esempi l'arena civica ad esempio dentro il parco Stempione il velodromo Vigorelli lo stadio San Siro e poi andremo fino al parco di trenno che è uno dei parchi pubblici cittadini che ospita più campi da sport liberi e fribili dalla cittadinanza il percorso è un percorso di circa 25 chilometri tutto in piano diciamo che si sviluppa in ambito urbano la partenza sarà alle ore 10 dal piazzale della stazione centrale e sarà di circa abbiamo previsto tre ore di pedalata con una sosta anche ristoro grazie ai nostri partner che sono Decathlon e poi un'altra possibilità che abbiamo già aggiunto abbiamo integrato già dagli anni scorsi è quella di per chi non avesse una bicicletta o volesse provare una pedalata assistita una bici a pedalata assistita abbiamo sviluppato una partnership con DOT che è appunto uno degli operatori di bike sharing qui a Milano insomma Angelo perché scegliere di usare la bici di andare in bicicletta anche di partecipare a un evento come la bici civica è anche una azione di cittadinanza attiva? Sì guarda grazie per la domanda dal mio punto di vista dal punto di vista diciamo delle attività che svolgiamo come lega in bici crediamo che la bicicletta sia un po' il simbolo della di una diciamo civiltà di un di un gesto civico l'andare in bicicletta è un gesto civico a nostro da nostro avviso perché è un mezzo di trasporto questo ci tengo a sottolinearlo la bici è un mezzo di trasporto regolamentato come tale dal codice della strada ed è un mezzo di trasporto che a noi piace molto perché ha un impatto ha un impatto irrisorio sul nostro territorio se non anzi forse un impatto positivo sulle nostre città ne alleggerisce il traffico ne alleggerisce il traffico intendo il traffico motorizzato ne alleggerisce l'inquinamento la congestione ma soprattutto una cosa che ci piace tantissimo della bicicletta è anche un motivo per cui ci teniamo a organizzare questa pedalata è il fatto che la bicicletta permette di creare relazioni tra le persone noi crediamo che appunto in una società che è stata minata da eventi recenti come la pandemia o comunque tanti altri eventi diciamo storico culturali che in qualche modo hanno un po' sfilacciato il tessuto sociale la bicicletta in qualche modo possa aiutare a rigenerare come dire il tessuto sociale le relazioni tra le persone grazie mille Angelo e dunque che dire ci vediamo tutti insieme alla Bici Civica il 12 maggio Civil Week è promossa dal Comune di Milano Corriere Buone Notizie Forum Terzo Settore in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Milano e Città Metropolitana con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano Fondazione Comunitaria Ticino-Lona Fondazione Comunitaria Nord Milano e Regione Lombardia con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano